Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor Allora, in questo video di The Witcher 3 andremo ancora a Zonzo a cercare nuovi luoghi da esplorare, misteri e missioni Ok, qua ci sono dei monstri, eh? Pronti? Crepa Ok, un andato C'è un altro qua Morto Facile, facile qua ragazzi, solo due ce n'erano Andiamo prima il punto abilità Il segno hard Quindi ripostiamoci il segno hard, visto che ci abbiamo il potenziamento Assoggiamo la tana Teniamoci Ok Ragazzi, ormai siano diventati dei fenomeni qua, eh? Ah, abbiamo fatto due luoghi da scoprire così al volo Allora, dovrebbe esserci un altro vicino all'acqua, se non erro Oppure dentro all'acqua, mi sembra Sì In mezzo allo stagno Oh che cavolo, mi ha spuntato un altro L'ho distrutta con la cavolo di tana Ma che fai se ce n'è ancora uno Boh Ciao, andiamo Eccoci qua Uh, ora ci sono dei monstri Quattro ce ne sono Dai, proviamo a prenderli, va Lupi Repa Fa un guard Porca troia Ficca, sono andati a cazzo duro Sono andati, ragazzi Mi hanno fatti fuori tre così D'emble Vieni qua Non voglio separare le famiglie Vieni qua Muori Ecco fatto Ok Adesso andiamo a fare il sirenetto Ok, deve essere qua Bottino di guerra Ok, me lo segna sotto Andiamo Eccolo lì In fondo al mar In fondo al mar Sella migliorata Buono Torniamo dal nostro cavallino Allora Ok, ora Diciamo di qua Dovrebbe esserci Un tesoro Sorvegliato Da queste parti Se non è Per dire che però Ok, non sarà 1080p Fissi Non sarà La grafica ultra Delle pc Però ragazzi C'è da dire che il gioco È fatto da dio Ah, guarda qua Gli è cresciuta la barba Gerard Va a te che roba C'è proprio un cazzo Da fare gli sviluppatori Sto scherzando Forza ragazzi Sto a livello 5 Devevo farcela Allora Io c'ho un'idea Distruggiamo il barile Pezzo di merda Ok, uno l'abbiamo ucciso Oh Abbona Avete rotto i coglioni Lo vedete voi Andiamo Uno lo faccio fuori Le pallone Si è fatto un cazzo Oh Mamma mia È in furia È in furia ragazzi È in furia C'era Madonna Si è cazzato Infatti fuori tutti C'è la derivia È andato in furia ragazzi È andato in furia Vediamo qua cosa c'è La cinghia di cuoio Oh Qua si ragiona Preso tutto Sì Ok Questa mi sa che è una delle zone tossiche Mi pare di aver letto qualcosa in qualche recensione Se entriamo dentro Se entriamo dentro Aumenta la tossicità di Geralt di Riveo Quindi Dovremmo evitare di entrarci Allora ci sono dei monstri tra l'altro Andiamo prima a prendere Le I luoghi da scoprire Sulla Sul fiume va Che dopo qua al fondo dovremmo esserci anche Dovrebbe esserci anche il L'erba per attirare il grifone Ecco È pieno di monstri Perché devi andarle a cercare Troveranno loro Forza Ok Questa è andata Mi fa fuori anche quello Crepa Bestiaccia Perché mi devi colpire Ma guarda te che stronzo Ok Mi deve essere qua sotto Lo scrigno Eccolo qua Buono Mi hanno trovato una cifra di robe Ricchezze temeriane Temeriane Buono Allora io direi di andare a prendere Prima Le L'erba che ci serve per il grifone Fossile prezioso Che dovrebbero essere qua Ok Ok Abbiamo preso La pianta che ci serviva Ok Quindi dovremmo E l'abbiamo fatto Ah no Sta sotto Ok Praticamente dovrebbero essere Erano dei nobili Che erano scortati Per essere portati in salvo Con le loro ricchezze Però Non ci sono arrivati in salvo Quindi Dobbiamo andare a nord Verso nord Poi meno Cioè Da qualche parte di qua Certo Ah qui della Fai te Che forse è quella che c'è qua sotto Quella dell'altro video Proviamo Forse mi hanno trovato la chiave Vabbè che è puro Giù Giù Eccolo qua Eh sì Eh sì ragazzi Ottimo ottimo L'ho detto ragazzi Non ho poi le cose che si trovano Ok ragazzi Io direi che questo video Basta così Vi lascio con l'immagine di Geralt Con la barba Un saluto a tutti E al prossimo video